La circostanza si sia fatta un'eccezione tale da consentirle di una partecipazione a questa che rappresenta una selezione per arrivare alla serata che si svolgerà in luglio del Festival del Mediterraneo. Allora, studia canto, partecipa a Concorsica Noi, credo che non sia il primo e noi ti auguriamo neanche l'ultimo anche perché bisogna insistere. La canzone che ci proponi è una lista che io adoro, lui si chiama Lucio Battisti e la nostra Rosy Castello ci propone che lo vivrò. Un applauso. Il mio amore è una verità, perciò non ci siano un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore. Il mio amore è un amore, è quello che da domani ne avrà io. Il mio amore è un amore è un amore. Il mio 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 amore è un amore. ci ha fatto sentire